Si è svolto questa mattina a Battipaglia un incontro presso il depuratore nella zona industriale intitolato Transazione ecologica delle aree industriali dal progetto Oasi alla comunità energetica a cui hanno preso parte Antonio Visconti, presidente nazionale di Ficei e dell'Asi di Salerno, Camillo Catarozzo, presidente BCC Campania Centro, Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente Campania e Stefano Ciafani, presidente nazionale di Lega Ambiente. La transizione ecologica delle imprese e delle aree industriali, perché se vogliamo veramente fare la transizione ecologica bisogna mettere insieme tutti i mondi, il mondo delle città, l'agricoltura, l'edilizia, il settore dei trasporti e anche le imprese, bisogna investire bene le risorse, perché le risorse private ci sono, c'erano già prima, ci sono tante risorse pubbliche, penso a quelle europee, bisogna evitare di far disperdere in mille rivoli questi grandi finanziamenti dell'Europa con il Piano Nazionale di Ripesa e Resilienza per fare velocemente e bene quello che non solo ci chiede l'Europa ma quello che ci chiede il pianeta, che pianeta ci sta dando dei segnali inequivocabili, nell'ultimo anno e mezzo abbiamo vissuto due uragani mediterranei che hanno lambito le coste della Sicilia, le alluvioni di Ischia e della provincia di Ancona che hanno causato 12 morti, le ondate di calore che hanno fatto il 2022 l'anno più caldo della storia del nostro paese da quando si misurano le temperature. Bisogna fare in fretta, bisogna fare bene e credo che queste attività che si fanno anche nelle aree industriali vanno proprio in questa direzione insomma per noi che non abbiamo steccati ideologici e non abbiamo pregiudizi se ci sono delle aree industriali che vogliono percorrere una strada concreta ed efficace sui temi della tantizzazione ecologica hanno tutto il nostro sostegno. Con l'Ecoambiente abbiamo messo su questo progetto dalle asi alle oasi che è anche simpatico dal punto di vista letterale perché fa capire bene quello che è l'obiettivo cioè tramite la piantumazione di diverse migliaia di alberi qui e presso le migliaia di depurazione sono stati piantati circa 200 poi altri a Buccino, altri a Palomonte, altri nell'area industriale di Battipaglia e altri ne verranno piantati, introduciamo un ecosistema che crea una barriera protettiva una cintura, una corona di mitigazione dell'impatto della presenza dell'impresa e di miglioramento di tutti quelli che sono gli elementi di percezione che si coniugano anche con quello che è l'altro obiettivo che lei diceva bene cioè l'introduzione di sistemi di efficientamento energetico e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili negli ultimi mesi è emersa come una bomba atomica la crisi energetica derivante dal conflitto ma è una criticità che già esisteva e che viene da lontano cioè l'aver delegato completamente l'autosufficienza energetica a fonti esterne pone in criticità il nostro sistema produttivo